Anche quest'anno abbiamo raccolto l'aglio, abbiamo finito. Ci siamo svegliati stamattina alle 6, dalle 6 che siamo qua nel campo. Questo è l'ultimo viaggio, il quarto viaggio, l'ultima stazione. Vieni, vieni a vedere che stasino, che macchina agricola qua, guarda, guarda, 4 viaggi di questi. Ora macchina, fammi cliccare questa cassetta qua, che riesco a mettere. Grazie a tutti. Due quintali a macchina sono due, faccio per due otto, otto quintali taglie sono fatte. Anche quest'anno abbiamo finito la raccolta dell'aglio, per chi è interessato mi contatti in privato. Viva l'aglio. Ciao ciao, alla prossima stagione. La mia collaboratrice. Ciao ciao. 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!